24 nomi in lista. Molti giovani, anche la prima esperienza di tipo politico-amministrativo. Nomi nuovi, intenzionati a mettersi in gioco in prima persona per dare un impulso alla propria città, ma anche persone esperte che hanno compiuto una solida esperienza in Consiglio Comunale. Questo costituisce l'insieme delle risorse umane con le quali la Lega si appresta ad affrontare le prossime elezioni amministrative, sostenendo le elezioni a sindaco di Luca Serfilippi, candidato di tutto il centro-destra. I cittadini, ha dichiarato quest'ultimo, ci stanno chiedendo una forte discontinuità. Un progetto vincente e sempre rappresentato dal valore umano. Pertanto vogliamo mettere tutta l'energia possibile per rendere Fano protagonista del suo futuro. La Lega scende in campo con una lista forte e di qualità personale la carica. L'onorevole Mirko Carloni, anche lui candidato della Lega per le elezioni europee. Candidata a sindaco Luca Serfilippi è davvero per noi un motivo di orgoglio e siamo davvero molto felici di poterlo sostenere. Lo faremo con tutte le forze perché serve davvero la città a uno slancio, una classe dirigente nuova, più giovane, con le idee chiare e con l'esperienza giusta. Sono sicuro che questa città è stata ferma per molti anni, ha perso dei treni, secondo me anche in modo abbastanza evidente. Quindi io mi auguro per la città di Fano, per la mia città, che ci sia un'amministrazione più capace, più conforme alle aspettative, alle esigenze e secondo me anche al diritto dei cittadini e delle imprese di avere risposte migliori da parte dell'amministrazione comunale. Darò il mio contributo affinché la prossima amministrazione, guidata da Luca Serfilippi, possa sfruttare meglio le risorse, possa avere una visione strategica condivisa anche con le categorie economiche. Per questo motivo abbiamo chiesto anche a tanti imprenditori di candidarsi, proprio perché io credo che la città debba rappresentare il meglio delle forze che esprime e metterle in campo, anche nella guida della cosa pubblica, perché nella guida della cosa pubblica serve competenza. Non è vero che bisogna essere astratti e bisogna essere dei teorici. Avere artigiani, agricoltori, imprenditori, professionisti che hanno voglia di condividere l'esperienza del governo locale è un arricchimento nel momento delle decisioni. Un'ultima domanda, risposta brevissima. Porterete avanti i progetti impostati da questa amministrazione e non conclusi questa tornata amministrativa? Questo decide Luca Serfilippi. Grazie.